E così, così come 150 anni fa i patrioti del nord sognarono e lottarono per il risorgimento e in questo preciso momento in cui c'è qualcuno presente in sala i patrioti del sud stanno sognando e stanno lottando per il risarcimento e poi voglio vedere da voi come fanno perché c'è un'altra volta lo stesso debito da pagare capisci come è successa? E ma voglio vedere dove prendono questi soldi dal festival di Sanremo Signore e signori, mille grazie Grazie mille E voglio ringraziare l'amministratore principale e la persona della sindaco e l'assessore all'epertura a Marco Lamora ringrazio il tecnico se avete sentito e avete visto le cose bene ringrazio il mio amato che ho fatto messo al mondo ringrazio voi che avete avuto la pazienza di sopportarmi fino alla fine spero che non ve ne ritorniate rispetto a ieri a casa pieno di risate ma che torniate un pochino più orgogliosi a essere venuti grazie mille grazie mille grazie grazie mille 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 Grazie.